Dalle ciocche di capelli di Elvis al menù dell'ultimo pasto servito a bordo del Titanic. Sono tanti gli oggetti bizzarri che finiscono all'asta, tra questi sicuramente quello venduto oggi dalla casa londinese Bonhams, Muffa, ma non un fungo qualsiasi, bensì un campione della Muffa che portò Alexander Fleming a scoprire le virtù della penicillina e che è stata acquistata per poco più di 14.000 dollari. Il reperto, un dischetto bianco ripieno del fungo, fu preparato dallo stesso Fleming ed è arrivato alla Bonhams, come spiega Matthew Halley, direttore dei manoscritti della Casa d'Aste, accompagnato da numerose carte dello scienziato. La piastra con la Muffa, sostiene Halley, ti dà una connessione diretta con quel momento di scoperta, una scoperta alla quale Fleming giunse in modo assolutamente casuale, ma che rivoluzionò la storia della medicina.